Sicilia, Jet è anche qui. Sì, i negozi di elettrodomestici, video e hi-fi più importanti d'Italia li riconosci dal marchio Gruppo Jet, come Bruno a Catania, Sacco a Siracusa. Gruppo Jet, 300 negozi sempre con le ultime novità, con fantastiche promozioni e con la convenienza di sempre. Interessi zero questo mese su tutte le migliori marche. Sì, interessi zero. Gruppo Jet, insieme per darti il meglio. Ah, infasil anche tu. Certo, perché è veramente delicato. Infatti un deodorante aggressivo può irritare la pelle, mentre test clinici dimostrano che infasil è delicato e i suoi emollienti nutrono la pelle. Infasil è delicata freschezza per tutto il giorno. Infasil deodorante con emollienti, la delicata freschezza che non aggredisce la pelle. Fermassi un momento per scoprire la vita, tante piccole cose e quel gusto che sai. Fermassi un momento per gustare la vita, per gustare il tuo tempo. Amaro Averna, il gusto pieno della vita. Amaro Averna, qualunque sia il tuo modo di concepire l'amore, a tu hai il profilattico che vuoi. Chiedi a tu la sicurezza. Leggere quanto riportato sulle confezioni. Vedi papà, non vorrei rimpiangere un giorno di non averci pensato. Hai ragione, oggi una polizza vita è un investimento per il futuro. Un po' tardi me l'ho fatta anch'io. Io l'ho fatta con la Reale Mutuo Assicurazioni. E perché non con la mia? Beh, con la Reale diventi automaticamente socio. Un bel vantaggio. Quest'anno che ha una polizza vita in scadenza, incassa il capitale che gli spetta maggiorato dell'8% e se l'ora investe c'è un altro 8% in più. Beh, con tutti questi vantaggi il pranzo lo paghi tu. Reale Mutuo Assicurazioni. Essere soci. Quale assicurazione migliore? A.B.S. e doppio airbag. Tecnologia tedesca e design latino. Magagliaio da station wagon. Due milioni e mezzo di supervalutazione dell'usato. Per arrivare dove altri non arrivano. L'intelligenza ha un nome. Sei attolito. Dalire 21 milioni e 89 mila. C'è un solo mini-peamer che riesce a fare tutto quello che volete. Ma questo lo sapete già. Quello che non sapete è che da oggi, facendo questo e questo, mini-peamer fa questo. E con questo, fa anche questo. E questo e questo. C'è un solo mini-peamer. Ed è Brown. Sabato 25 marzo, per un pugno di dollari. Giornale più film, solo 6 mila lire. Buonasera dal Tg3. Tra un mese le elezioni regionali. I partiti sono impegnati nella non facile formazione delle liste.